Per capire l'utero e la riforma protestante dobbiamo tornare indietro nell'Europa del XV secolo. In questo periodo conosciamo infatti quelli che Piren ha definito tentativi di risveglio religioso. Tra i tanti predicatori che all'epoca invocavano un cambiamento più o meno profondo della vita clericale ricordiamo in particolar modo Janus in Bohemia e John Wycliffe in Inghilterra. Come già successo nel passato però, la Chiesa reagì con le armi e Janus venne condannato a morte per rogo nel 1415 con l'accusa di eresia. Una parziale riabilitazione della sua figura avvenne nel 1999 ad opera di Papa Giovanni Paolo II che chiese scusa per la sua ingiusta condanna a morte. La riforma luterana quindi non fu un episodio isolato ma si deve calare in un più ampio contesto di tentativi di riforme risalente addirittura anche a molti secoli prima. La nostra vicenda inizia quando Alberto Dionel Zollern, già vescovo di Magdeburgo e di Alberstadt vuole aggiungere anche il vescovato di Magonza, più ricco e potente degli altri due. Per convincere il Papa, Federico Dionel Zollern chiese un ingente prestito in Ducati d'Oro ai Fugger importante famiglia di banchieri dell'epoca. Il Papa permise poi a Federico di indire una vendita straordinaria delle indulgenze i cui proventi sarebbero stati divisi a metà. Una parte avrebbe finanziato la costruzione della Basilica di San Pietro a Roma mentre l'altra parte avrebbe ripagato i Fugger del loro prestito con gli interessi. Tutto questo fece infuriare Martin Lutero, piccolo frate agostiniano della campagna tedesca che il 31 ottobre 1517 affisse l'elenco delle sue tesi, ben 95, sul portone della cattedrale di Wittenberg. Grazie alla stampa il messaggio di Martin Lutero si diffuse velocemente in tutti i lender tedeschi. Arrivando ben presto a Roma Lutero nacque nel 1483 in Sassonia, una regione prevalentemente agricola e di frontiera, una terra sospesa tra il mondo culturale germanico e quello slavo. Dove l'influsso del cristianesimo rinascimentale è molto debole a favore invece di visioni più tradizionaliste e superstiziose. Lutero quindi nasce e cresce in un mondo culturalmente arretrato, intriso di teali religiosi medievali. Nemmeno la vita monastica spesa nel monastero di Erfurt alleviò le pene del giovane frate agostiniano. La complessa personalità di Martin Lutero è uno dei tanti motivi che non ci permette ancora oggi di spiegare chiaramente che cosa è stata la riforma luterana. Numerose sono infatti le interpretazioni possibili. Convocato alla dieta di Worms del 1521 per abbiurare 40 tesi ritenute eretiche, Martin Lutero si rifiutò di farlo. Prima che fosse arrestato dalle guardie imperiali, venne fintamente rapito e protetto da Federico il Saggio, grande principe lettore di Sassonia.